Recuperati dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona, circa 16 milioni di euro sottratte al fisco da una società operante nel settore della costruzione e assemblaggio di componenti elettronici, con sede amministrativa dichiarata nella città di Sulmona. I finanzieri hanno sequestrato unità immobiliari sitene comune di Pratola Pelinia, conti correnti bancari, libretti di deposito postali, carte postpaymoni, linoro e preziosi, al fine di recuperare l'imposta evasa e non versata al fisco. Le fiamme gialle, a seguito di un'articolata e complessa verifica fiscale, hanno costarato che la società, che non aveva presentato le dichiarazioni sia dei redditi che dell'IVA per gli anni di imposta dal 2009 al 2012, aveva in realtà operato e effettuato operazioni commerciali, concessioni di beni e prestazioni di servizi, conseguendo profitti per circa 16 milioni di euro completamente non dichiarati e occultati al fisco, evadendo in maniera totale le imposte in materia di imposizione diretta. Pur in presenza di una contabilità carente e frammentaria, i finanzieri sono riusciti a ricostruire l'intero ciclo delle operazioni di gestione, delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, eseguite sul territorio provinciale, regionale e nazionale, determinando l'effettivo giro d'affari realizzato dall'impresa, nei confronti della quale sono stati costatati ricavi non dichiarati per 16 milioni di euro, un'imposta evase finires per oltre 4 milioni di euro, un'IVA dovuta per 3 milioni di euro e un'imposta IRAP per 778-916 mila euro. I due amministratori della società sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per violazioni in materia penale tributaria, omessa dichiarazione dei redditi e dell'IVA e occultamento di documentazione fiscale. La Procura della Repubblica di Sulmona ha richiesto al CIP la misura cautelare reale sia per gli immobili di proprietà degli amministratori ubicati nella provincia dell'Aquila, sia sulle disponibilità rinvenute nei conti correnti bancari e postali.